Ancora una vittima per coronavirus in Sardegna. È un commerciante di Ossi, deceduto domenica in una struttura ospedaliera di Sassari dopo alcuni giorni di ricovero. Ne ha dato notizia il sindaco, Giovanni Serra, in un post sulla pagina Facebook del proprio paese. Nessuno riesce a capacitarsi della tragica notizia. Un uomo generoso, pieno di vita, un figlio e un marito strappato prematuramente i suoi cari. Una cosa è certa, nessuno è immune a questo maledetto virus, scrive Serra, invitando la comunità ad unirsi nel dolore. Un virus subdolo che toglie la vita e lascia le sue vittime sole, continua il sindaco, ricordando come l'uomo sia morto in piena solitudine senza che nessuno potesse dargli un saluto. Un male che, come viene ricordato nel post, è arrivato ad attaccare, dopo nazioni e città, anche un piccolo paese come quello di Ossi. Si tratta dell'ottavo decesso nell'isola dall'inizio della pandemia. Dopo i cinque disastri, il sacerdote scomparso a Nuoro e il cominciante morto a Cagliari.